Vogliamo leggere insieme un brano dal Vangelo di Luca, capitolo 9, un brano molto conosciuto credo che per la maggior parte di noi non sarà una novità, ma come sappiamo la parola di Dio è come la fontana dell'acqua, è sempre acqua però è sempre diversa, è questo miracolo. Luca dal versetto 57, 9,57 Mentre camminavano per la via qualcuno disse a Gesù Io ti seguirò dovunque andrai E Gesù gli rispose Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei niti, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo E un altro disse, seguimi Ed egli rispose, permettimi di andare prima a seppellire mio padre Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vai ad annunciare il regno di Dio E un altro ancora gli disse, ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano al ratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio Fino a qua la lettura della parola del Signore, di questo bellissimo brano del Vangelo Sono esperienze che Gesù fa mentre è in cammino E incontra la gente che va da lui e gli fa queste domande Questa sera parleremo di questi tre incontri Sono tre personaggi Tre personaggi anonimi Senza un nome Che io definirei Tre aspiranti discepoli Tutti manifestano, o il Signore chiede loro, di divenire discepoli Sapete la differenza che c'è tra credente e discepolo? Ne abbiamo parlato qualche volta Cioè, una cosa è essere credenti Di credenti ce ne stanno tanti Cioè quelli che dicono, io credo in Dio Ma essere un discepolo di Gesù Non basta essere credente Noi vedremo la differenza che c'è Essere discepolo o essere semplicemente un credente Luca chiama questi tre personaggi in maniera molto vaga Il primo è qualcuno Qualcuno Il secondo è un altro E il terzo è un altro ancora Quindi i nomi che gli daremo sono qualcuno Un altro e un altro ancora Questi sono i nomi di questi tre personaggi Di questo brano Non hanno un nome Perché Possiamo immedesimarci Questi sono tre personaggi che Che rappresentano tutto il genere umano Vero? Rappresentano anche noi questa sera Sono tre personaggi anonimi Che potrebbero rappresentare Qualcuno di noi qui in questa sala anche Qualcuno, un altro e un altro ancora La prima cosa che penso è che Questi personaggi che incontrano Gesù Sono rappresentanti di tutto il genere umano Perché? Perché tutto il genere umano Tutti gli uomini e tutte le donne Almeno una volta nella vita Ma dice la Bibbia anche due Incontrano Dio Come incontrano Dio? Dio parla loro Non lo dico io Lo dice la scrittura Lo vogliamo leggere insieme? Nel libro di Giobbe Nel capitolo 33 Nel verso 14 Ci dice Questa parola Che non ci sarà un giorno Un uomo, una donna Che potrà dire Ma Dio non mi ha mai cercato Perché Dio parla una volta Anche due Ma l'uomo non ci bada Parla per via di sogni Di visioni notturne Quando un sonno profondo cade sui mortali Quando sui loro letti Giacciono assopiti Allora apre I loro orecchi Da loro un segreto degli ammonimenti Per distogliere l'uomo Dal suo modo di agire Tenere lontano da lui La superbia Per salvargli L'anima dalla fossa E la vita Dalla freccia mortale Questo brano poetico Il libro di Giobbe Vedete Il libro di Giobbe Qualcuno dice È il libro più antico della Bibbia Infatti Non si parla Della scrittura Non si parla della legge Se l'avessi scritto Un profeta Avrebbe detto Dio parla Per mezzo della sua parola Quindi qui È una generazione Addirittura senza Bibbia Senza rivelazione Scritta Ma non senza La testimonianza di Dio Sentito diverse volte Delle testimonianze Molto belle Anche recentemente Di come il Signore Per esempio Parla A popoli Che non posseggono ancora La scrittura O dove In nazioni Dove possedere una Bibbia Ti può costare Molto caro La prigionia A volte anche Una morte Come parla Dio a questi popoli Che non possono Non posseggono Una Bibbia Io l'ho sentito Diverse testimonianze Nei paesi Per esempio Musulmani Ma Dove c'è un Islam Che perseguita la Chiesa Ci sono anche Paesi musulmani Moderati Paesi musulmani Dove c'è l'Islam Che perseguita la Chiesa Che molti Molti musulmani Vengono a Cristo Perché Il Signore Gli parla in sogno Gli parla in sogno Si alzano Una mattina Il Signore Gli ha parlato E cercano Cercano Una Chiesa Cercano una scrittura Cercano Un credente Dio parla Sa parlare Una volta Tutti O anche due Però c'è questa tristezza Poi Ma l'uomo non ci bada Purtroppo La maggioranza E qui abbiamo Questi tre personaggi Questi tre Qualcuno Un altro E un altro ancora Che rappresentano Tre categorie Di persone Aspiranti discepoli Che non sappiamo però Poi se lo sono diventati Perché la Bibbia Non ce lo dice Se questi tre Hanno seguito Gesù Poi Non ce lo dice la Bibbia Rimane un mistero Che scopriremo Solo un giorno Ma ci parla Del loro carattere E del loro atteggiamento Vediamo di imparare Qualche cosa Da questi personaggi Il primo È qualcuno Questo è L'aspirante Discepolo Entusiasta È vero? Lo vedo correre Da Gesù Gesù sta camminando Questo Arriva di corsa Gli si mette davanti Magari come hanno fatto altri Si mettono in ginocchio Davanti a lui Matteo ci dice Lo stesso brano Ci dice pure Qual era La sua professione Era uno scriba Uno scriba A quel tempo Era Era una persona Insomma Quotata Era uno che C'era tre lauree Lo scriba Era quello che Sabeva scrivere Era quello che Scriveva la legge Uno scriba Che si Butta lì Davanti al Signore E dice Signore Maestro 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 lo chiama In Matteo Io ti seguirò Dovunque Andrai Che bella dichiarazione Bello Vero? Maestro Io ti seguirò Dovunque andrai Qualcuno Una bellissima Dichiarazione Vedete la risposta Di Gesù Però Le volpi Hanno Delle tane Gli uccelli Del cielo I nidi Ma il figlio Dell'uomo Non ha dove posare Il capo Sembra quasi Scoraggiante Il Signore Nei confronti Di questo scriba Che dice Ti seguirò Dovunque andrai Perché? Perché il Signore Usa con noi Una sincerità Non ci nasconde Niente E vuole che Se lo seguiamo Lo seguiamo Consapevolmente Ti seguirò Dovunque andrai Sì, è una bella dichiarazione Però Caro qualcuno Tieni presente questo Che per essere Mio discepolo Devi Rinunciare a qualcosa Per essere un credente Abbiamo detto C'è tanta gente Che dice Io credo in Dio Ma non sono discepoli Di Cristo Dice L'epistola di Giacomo Questo è un brano Che dobbiamo sempre Riflettere attentamente Giacomo scriveva Tu credi che c'è un solo Dio? Giacomo Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene Anche i demoni Lo credono Anche il diavolo Ci crede che c'è un solo Dio Quindi che differenza c'è? Tra te il diavolo Non c'è solo la differenza Tu credi in Dio Ci crede pure il diavolo Dice Giacomo Un po' forte Come esperienza Però continua Insensato Gli dice pure insensato Vuoi renderti conto Che la fede senza le opere Non ha valore Cioè Quanti dicono Di credere in Dio Ma poi La loro fede È solo in questa dichiarazione Io ci credo Sono insensati Dice la Bibbia Perché Quello che il Signore ci chiede È non soltanto la fede E credere in Lui Ma di seguirlo Amen Seguirlo Questo fa la differenza Quindi non basta Soltanto dire Signore ti seguirò Ma poi Bisogna che le nostre gambe Iniziano a muoversi E a seguirlo Questo fa la differenza E Questo discepolo Che ci insegna Che è un discepolo entusiasta Sì io ti seguirò Dovunque andrai Beh ti ricordate Pietro Prima Della passione di Gesù Che Che sparata Che ha fatto Signore io metterò La mia vita Per la tua Lo ricordate Pietro È Gesù che gli ha detto Tu metterai la tua vita Per la mia Quando Il gallo Non canterà tre volte Che tu mi rinnegherai Questa sera Vedete queste Queste sparate No? Queste cose Dette così Nell'entusiasmo Senza riflettere Possono farci fare Delle gran brutte figure E allora Gesù Mette subito Davanti a questo Qualcuno Che significa Essere suo discepolo Sì sì tu vuoi seguirmi Dovunque Benissimo Però tieni presente Una cosa Rifletti su una cosa Che seguire me Significa che devi Rinunciare a qualcosa Guardate che gli uomini Sono disposti a credere Ma non a rinunciare Io almeno ho conosciuto Un sacco di qualcuno No anzi Diciamo che io Ho conosciuto Qualche qualcuno Ecco Qualche qualcuno L'ho conosciuto Un gioco di parole Qualche qualcuno L'ho conosciuto Che è arrivato Anche qua dentro Nella chiesa Ah io seguirò il Signore Farò Io ho imparato Che mi trovo Quando mi trovo davanti A questo tipo di persone Così entusiaste Poi invece Tante volte Vedo che Non c'è un seguito C'è Quell'allegria Come dice Gesù Nella parabola Del seminatore Del seme Che cade sulla roccia Ricordate Quel seme Che cade sulla roccia Che subito Spunta la pianticella Dice Gesù Ma poi subito Si secca E sono Queste persone qui Che ricevono Con allegria Il messaggio Della parola Con allegria Subito spuntano Poi dal primo La difficoltà Spariscono Il Signore Vuol fare di noi Dei discepoli Non delle persone Che si accendono E si spengono In un momento Amen E per essere discepoli Dobbiamo essere consapevoli Che seguire Lui Significa Non solo credere Non solo ricevere La grazia Che è gratuita La grazia di Dio È gratuita Vero il Signore Ci ha perdonato gratis A tutti quanti Ma dopo Per essere discepoli Il discepolato Ha un prezzo La grazia È gratuita La salvezza È per grazia È per fede Ma il discepolato Il seguire Gesù Ha un costo Se uno vuole essere Il mio discepolo Dice Gesù Lo dice a tutti Diceva poi a tutti Se uno vuole venire Dietro a me Essere un mio discepolo Rinunci A se stesso Prenda ogni giorno La sua croce E mi segua Questo è il discepolato La grazia È un dono di Dio Il discepolato È una scelta Che si fa Consapevolmente Sapendo che ogni giorno Dobbiamo seguire Prendendo la nostra croce E allora qui Si scatenano Tutta una serie Di interpretazioni Per seguire Gesù Dobbiamo essere disposti A lasciare qualcosa Per essere discepoli Vuoi essere un discepolo Di Gesù? Tutti stanno zitti adesso Si è messo paura No è bello Seguire Gesù Perché devi lasciare Soltanto tante immondizia Per seguire lui Gloria a Dio Che lasciamo noi? Paolo diceva Tutte le cose Che c'avevo prima Sono un mucchio Di immondizia Confronto Alla conoscenza di Cristo Il mio Salvatore Vero? Però devi rinunciare A qualcosa Per seguire Dio Pure nell'Antico Testamento Cioè Mosè Ha rinunciato a qualcosa No? Rinunciò Dice la Bibbia Ad essere chiamato Il figlio Della figlia del Faraone Oh Era un pezzo grosso Era un semidio Mosè Ha detto no Preferisco soffrire Con il popolo di Dio Che tutte queste Onorificenze Faraoniche Ma Ci ha rimesso Ci ha guadagnato Mosè Sì Ha seguito il suo Dio Nel deserto Ma Ne parliamo ancora stasera Se fosse stato il figlio Dalla figlia di quel Faraone Neanche sapremmo Chi fosse Adesso Non sapevamo chi fosse Pietro Pietro Quando Gesù L'ha chiamato Ha rinunciato a qualcosa Ha rinunciato a una barca E una rete rotta E ha seguito il Signore Matteo Matteo l'Evangelista Che ha rinunciato Ai soldi Era un imbroglione Faceva l'esattore delle tasse Ha lasciato i soldi Ha seguito Gesù Tutti lasciano qualcosa Paolo Apostolo Paolo Apostolo Paolo Aveva una carriera Stava lì Nel sinedrio Era promettente Diventava Lì diventava Qualcuno di un pezzo grosso Lui ha lasciato tutto Per seguire il Signore E poi testimonierà appunto Che quel tutto Di fronte alla conoscenza di Cristo È tanta immondizia Quindi c'è sempre qualcosa da lasciare Per seguire Cristo E qualcosa da prendere E qualcosa da prendere Prenda la sua croce Allora vorrei fermarmi ancora una volta Su questa storia Su questa parola Prenda la sua croce Chiaramente non si parla Di qualche oggettino d'oro e d'argento Da mettersi al collo La croce non è quella Non è quella la croce Che ci dobbiamo mettere al collo Non è quella la croce Non è un simbolo È invisibile questa nostra croce Vero? Anche se tanti ne hanno fatto Soltanto del cristianismo Hanno fatto solo questo Nell'interpretazione del popolo Popolare Prendere la croce È diventato sinonimo C'ho una croce Quindi c'ho Un capo ufficio Che è una croce C'ho una suocera Che è una croce C'ho un suocero Che è una croce C'ho un figlio Che è una croce Quando c'è un problema Su tutti i croci sono Eh Vero? Vero? C'ho una malattia Che è una croce Su tutte le croci Sono queste Nel modo di ragionare Della gente Ma era questo Che diceva Gesù Gesù non sta parlando di questo Non sta dicendo questo Il Signore Sta dicendo Qualcos'altro Cioè Mettiamoci nei panni Di quelli che ascoltavano Gesù quel giorno E che sentivano Con le orecchie La parola croce Che non è quello Che capiamo noi Oggi nel 2023 Oggi croce Pensiamo alla Chiesa Vero? Pensiamo a Gesù Che ci ha salvato Sembra cosa bella Quando a quel tempo Prima che Gesù Morisse su una croce Uno ti diceva Croce Tu pensavi A quel terribile supplizio Che vedevi Praticato dai romani Lì a Gerusalemme Anche E in giro Era un patibolo La croce E' come se oggi Dicessi Prendi la tua sedia elettrica E lo diceva Sedia elettrica E' una cosa Che fa impressione No? Era un patibolo La croce Non è una cosa bella Un oggetto Un gioiello La croce Ci parla Di un patibolo E la tua croce La mia croce Ci parla Di un patibolo Dove deve morire Qualcosa di noi Ogni giorno Ci dobbiamo Crucifiggere qualcosa Sulla nostra croce Che noi prendiamo Ogni giorno Chi ci deve morire Su quella croce? Certamente non Gesù Chi ci deve morire? Voi c'è la Bibbia? Non mi devo inventare niente E' vero? Apostolo Paolo Sappiamo Romani 6 Infatti Che il nostro vecchio uomo Lo conosci il vecchio uomo? C'è pure la vecchia donna Sono uguali Il vecchio uomo E' quello che dura a morire E' l'unica persona Che devi far morire Non uccidere C'è scritto nei comandamenti Ma La Bibbia ci dice Che il tuo vecchio uomo La tua vecchia donna La devi fare morire Perché? Perché è quella che ti porta lontano da Dio E' il vecchio te stesso Il vecchio io Il vecchio me Paolo dice Sappiamo che il nostro vecchio uomo E' stato crucifisso Con lui Affinché il corpo del peccato Fosse annullato E noi non serviamo più il peccato Quando su quella croce Ci crucifiggiamo Il nostro vecchio uomo Con tutte le sue passioni Vero? Se c'è qualcosa Che dobbiamo far morire Dice sempre Paolo Fate morire Quindi bisogna ammazzare qualcosa Ad ammazzare ce l'abbiamo Non sono le formiche E scarafaggi E fate morire Ciò che in voi è in terreno Ciò che in voi è terreno Fornicazioni Impurità Passioni Desideri cattivi Cupitigia E idolatria Che è idolatria? Sono cose che devono morire Insieme al nostro vecchio uomo Ogni giorno Sulla nostra croce Io devo crocifiggere Le mie passioni Il mio vecchio uomo I miei vecchi istinti Le mie vecchie voglie Ogni giorno Con l'aiuto del Signore Signore Devono morire Perché io sono una nuova creatura E voglio seguire Gesù Amen E se non lo crocifiggiamo Sto vecchio uomo Non puoi seguire Gesù Perché sarà un impedimento Alla tua vita Alla mia vita E qualcuno diceva Ricordo C'era sempre questo modo Di dire in chiesa Che noi Tutti allegri Facciamo il funerale Al vecchio uomo Eh? Facciamo L'ho seppellito L'ho ucciso Ci ho messo una pietra sopra E poi Mentre mi allontano dal cimitero Mi giro E già mi sta seguendo Lo devo ammazzare tutti i giorni Tutti i giorni Lo devo ammazzare Perché Gesù dice Ogni giorno Non una volta alla settimana Se tu uccidi Una volta alla settimana Ti darà molto fastidio Il vecchio uomo Infatti Il più grande nemico Non è il diavolo Non dico una Un'eresia Il nostro più grande nemico Non è il diavolo È quel personaggio Lo che vedi in uno specchio La mattina Sta lì Da quelle parti È quello che ti può impedire Di seguire Gesù Se non impari A domarlo Se non impari A crocifiggerlo Sì Quello che è ero Signore Io voglio che sia Crocifisso Perché io voglio seguire Te In novità Di vita Amen Qualcuno Dicevamo Questo qualcuno Ti seguirò Dovunque andrai Signore Bene Qualcuno Allora Cominciamo Cominciamo a sapere Che seguirmi Da un punto di vista umano Comporta delle rinunce Rinunce al peccato Rinunce alla tua vecchia vita Al tuo vecchio uomo O certo Rinunciamo Abbiamo già detto A delle cose così Ma quante cose ci guadagniamo Seguendo il Signore Abbiate pazienza Io non farei a cambio mai Con quello che ho lasciato O con quello che ho trovato In Cristo Vero? Quindi grazie Signore Che ci abbiamo guadagnato Cento volte tanto Quindi Qualcuno Il Signore Gli ha risposto così Quindi se c'è questo entusiasmo Bene Bene Però Deve essere un entusiasmo Consapevole Di che significa Seguire Gesù Quindi Vediamo l'altro Discepolo apprendista Qui Un altro Ecco A un altro disse Seguimi Qui è Gesù Che prende l'iniziativa Seguimi Non è lui Che lo cerca È il Signore Che si ferma Vede uno Dice Seguimi Quello rimane un po' spiazzato Seguimi Ed egli rispose Permettimi Di andare prima A seppellire mio padre E Gesù Gli risponde Lascia che i morti Seppelliscono i morti Ma tu vai a annunciare Il regno di Dio Anche qui Sembra che il Signore È un po' pesante Quello ti ha chiesto Signore Di andare a fare Il funerale Al papà Ma è così? Non è così Quando Quest'uomo diceva Permettimi Di andare a seppellire Mio padre In realtà A quel tempo Significava Permettimi Signore Di accudire Mio padre Fino a che muore Quindi se campava Arti di 25 anni Il papà Lui per 25 anni Il Signore Non l'avrebbe seguito Avete capito il significato Non era il funerale Era occuparsi Del padre Fino a che Il papà Andava in gloria E Gesù E Gesù Gli risponde così Lasci i morti Seppelliti i morti Come i morti Seppelliscini i morti Sì sono morti viventi Sono persone Lontane da Dio Che sono morte Come eravamo morti noi Senza Gesù Vero? Quindi Gesù Non utilizza molte parole Per chiamare Un discepolo Usa solo sette lettere Seguimi E quello ha fatto Con tante persone Ci sono quelle Come Matteo Che si sono alzati L'hanno seguito E ci sono questi Come un altro Che è un rimandatario Il rimandatario Lo conoscete Il rimandatario? Ce l'avete presente? Il discepolo L'apprendista discepolo Rimandatario Oh quanti Non conosciuti Questi Mamma mia È piena la chiesa Di rimandatari I rimandatari Oggi non posso Ripassare signore Oggi c'ho da fare È rimandatario Permettimi signore È gentile pure Con Gesù Vero? Signore Sì sì Tu c'hai ragione Signore Sì ti seguo Ma adesso C'ho da fare Adesso sono impegnato C'è una cosa C'è una cosa importante Da fare Più importante Che seguire te Questo è il concetto Del discepolo rimandatario Oggi non posso Ripassare dopo Attenzione Attenzione Fratelli e sorelle Che questo modo Di ragionare Potrebbe attaccarsi Molto facilmente Alla chiesa Del signore E io l'ho visto Troppe volte Questo rimando Ho un impegno giusto Devo fare Devo finire Prima questa cosa E poi ti seguirò Vero? Oggi non posso Signore Ripassa Dopo Mi fa pensare Adesso che c'ho un po' Di capelli bianchi Poi quando me li taglio È ancora peggio Ma l'ho detto Mi fa pensare a tanti giovani Che ho conosciuto In chiesa Ma tanti Anche promettenti E quando poi il signore Gli dice Seguimi E comprendono Che devono Seguire Gesù C'è sempre qualcosa Di più importante Da fare Devo finire Gli studi Devo trovare Il lavoro Mi devo fidanzare Come se Insieme a Gesù Non ti potessi fidanzare Trovare il lavoro E finire l'università Tutte cose Più importanti E ne ho visti Sparire Diversi Dalla chiesa Proprio Iniziando così A rimandare Ho da fare Una volta esisteva Un bellissimo Buscoletto Volevo proiettarvelo Però ve lo racconto E' bello Era quattro facciate Gli vecchi buscoletti E c'era scritto Sulla prima pagina C'era scritto Troppo Sono troppo giovane E c'era un bambino Col ciuccio Troppo giovane Per seguire Gesù E vabbè Ci hai la pagina C'era un giovane Mi diverto troppo Per seguire Gesù Va bene Poi si vede uno Al lavoro Sono troppo stanco Per seguire Gesù Poi c'era un'altra figura C'era un vecchietto Sono troppo vecchio Per seguire Gesù E l'ultima immagine Era il cimitero E c'era scritta È troppo tardi Per seguire Gesù Era molto efficace Era molto efficace Troppo tardi C'era alla fine Troppo Ripassa dopo Signore Nella mia vita Ma Dio passa Una O due volte È scritto Ma io sono nato in chiesa E è passato centinaia di volte Signore Certo Sei fortunato Sei fortunata Ma il Signore Passa e ripassa Ma il treno Potrebbe non passare più Perché il futuro Non ci appartiene Siete d'accordo? Chiamen Mosho Scusate Siete d'accordo? No Io lo sapete Che non sono un strappamen Però Non ci vuoi Ci vuoi Oggi non posso Ripassa dopo E vediamo Abbiamo parlato di qualcuno Di un altro E poi Quindi Un altro è rimandatario E un altro ancora Questo è L'apprendista Discepolo Con la condizionale Non è un carcerato Apprendista Discepolo Con la condizionale Perché? Un altro ancora Gli disse Ti seguirò Signore Ma Se togliete questa piccola parolina Di due lettere Ma È una bellissima dichiarazione Ti seguirò Signore Ok Ma C'è una condizione Ma Ma che Lasciami prima salutare Quelli di casa mia Pure qui Sembra che la richiesta Non sia troppo Difficile Vero? Poi c'è un passo biblico Dell'Antico Testamento Se ricordate C'erano Eliseo E Elia Elia chiama Eliseo A sostituirlo Per fare il profeta Di Israele Eliseo gli dice Fammi andare A salutare i miei E Elia Elia gli dice E vai E qui lo ce va Fa una festa Invita tutti Saluta tutti E poi segue Elia Probabilmente Questo ebreo Questo Un'altra ancora Pensava pure qualcosa del genere Ha fatto Elia Fallo pure te No? Ma qui Ma qui non c'è Elia Qui c'è il figlio Dell'uomo Sono due persone diverse Con tutto il rispetto Per Elia Se il Signore Ti chiama Se il Signore Ti fa sentire Di seguirlo Il tuo cuore Non può essere Diviso in due Questa è una questione Di affetti Mandami a salutare Primi Quelli di casa mia Riguarda Il cuore Riguarda il sentimento Riguarda l'affetto Quelli di casa mia Ti seguirò ma E poi Gesù dice Al verso 62 Gli risponde così Nessuno che abbia messo mano all'aratro E volga lo sguardo indietro E adatto per il regno di Dio Anche qui sembra Molto Molto duro il Signore Ma qui stiamo parlando Di cose che hanno a che fare Con la nostra vita Eterna E il Signore È molto Preciso È molto duro Guarda Stai attento Che se tu hai voglia di seguirmi Poi cominci a portarti indietro Quindi Segui me Ma c'è qualcos'altro Che ti tira Da un'altra parte È pericoloso Non puoi Ereditare il regno di Dio Non sei adatto Al regno di Dio Se la tua testa fa così È così È così È così Non sei adatto Non ci arriverai In cielo Guardate che è un È un avvertimento importante Quello del Signore Questo volgersi indietro Lo applica a questo discepolo Con la condizionale Ti seguirò il Signore ma Adesso c'ho da fare Ti seguirò il Signore ma Lo vedo così Lo vedo così questo discepolo Che continua a guardarsi indietro Guardare indietro Questa è la parola Che dobbiamo ricordare Di questo Di questo Di questa risposta del Signore Un forte richiamo Per chi vuole veramente Seguire Gesù Un avvertimento Che ha a che fare Con il nostro cuore Con i nostri sentimenti Non puoi avere Se vuoi seguire Gesù Il tuo cuore Non può essere diviso Un po' ami il mondo E un po' ami il Signore Perché se no ti volterai indietro Lo sai? Che se no ti volterai indietro? Qual è il primo comandamento? Qual è il primo comandamento? E sappiamo i comandamenti? Sì Che dice il primo comandamento? Ama Il Signore Il Signore Come? Come? Con Tutto Tutto Allora Signore Se amo Amo Te con tutto il mio cuore Poi non posso amare La mia ragazza? No È proprio il contrario Se ami Dio Con tutto il tuo cuore L'amarei veramente La tua ragazza È tua madre È tuo padre È tutta casa tua Eppure quelli che te vogliono male L'amirai Se ami Dio Con tutto il tuo cuore Figlio mio Dammi il tuo cuore Dice il Signore Dio non fa compromessi A mezzo Al Signore Non piace Tutto Il tuo cuore Se ami Dio Con tutto il tuo cuore Se ami Gesù Con tutto il tuo cuore Lo puoi seguire Altrimenti Inevitabilmente Prima o poi Ti volterai indietro E non serai adatto Al Regno dei Sieli Guardate Abbiamo degli esempi Clamorosi Nella Bibbia Di persone Che avevano il cuore Diviso in due E hanno fatto Proprio Questa fine Ricordate Tutto il povero Di Israele Lo stiamo studiando Nel libro Di numeri Tutto il povero Di Israele Sono usciti Da Israele Hanno visto più Miracoli loro Che tutta la Bibbia Messa insieme Tutte le piaghe D'Egitto Il Mar Rosso La manna Le guaglie L'acqua che esce Dalle montagne Che hanno visto Questi? Hanno visto Tutti i miracoli Di questo mondo Eppure Eh? A ogni problema Si giravano Indietro Perché Cominciavano a murmurare Quando mancava L'acqua Quando mancava Eh? Mancava quello Il cibo Eh? Perché il cibo C'era sempre C'era la manna Però Eh? Sempre sta manna E si portavano indietro Come stavamo bene In Egitto Che mangiavamo I gogomeri Le cipolle I meloni I porri Mamma mia Avessero detto Mangiavamo Lasagne Mangiavamo La parmigiana E noi I poponi I gogomeri E questa manna Perché il loro cuore Era rimasto là Ed allora Come abbiamo Anche detto Nelle lezioni Che facciamo Dio ha portato Israele Fuori dall'Egitto Ma poi Doveva portare L'Egitto fuori Da Israele Quello è il problema L'Egitto fuori Da Israele Non è uscito E sono rimasti Nel deserto Non sono stati Adatti Al regno Vi ricordate La moglie Di Lot Un altro esempio Che l'amoroso Di uno che si porta Indietro Eh? Gli angeli Vanno a Sodoma Dio deve distruggere Sodoma E Gomorra Perché ormai La malvagità Di quella generazione Era arrivata Fino al cielo Però deve salvare Vanno a salvare Lot Con la sua famiglia Per tirarlo fuori Lot Hanno fatto un po' di fatica Pure con Lot Ma c'è questa Moglie di Lot Questa moglie di Lot Che non sappiamo Come si chiama La signora Lot Escono Trascinati dagli angeli Prima che lì Casca una bomba atomica E finisse tutto Trascinati fuori E gli angeli Dicono Andate dritti al monte Non vi voltate indietro Non vi voltate indietro Era il comandamento Del signore E che fa la moglie di Lot Si gira Perché il suo cuore Lei era uscita da Sodoma Ma Sodoma Non era uscita dal suo cuore E si volta indietro E sappiamo Divenne Una statua di Sale E Gesù Riprenderà questo esempio Se ricordate E dirà a Israele Dirà a quella gente Che aveva davanti Ricordatevi Della moglie di Lot E conferma Quello che è stato narrato Vero? In Genesi Ricordati Della moglie di Lot Si è girata indietro Guarda che fine che ha fatto Ricordati Israele Guarda che fine che hanno fatto Quelli che si voltano indietro Vogliamo vedere Nel Nuovo Testamento Quelli che si voltano indietro Ci sono stati Ma forse L'abbiamo anche conosciuto di persona Quelli che si sono voltati indietro Ed allora Signore Aiutami questa sera Ho messo mano all'aratro Ho deciso di seguirti Ho deciso di annunciare Abbiamo sentito In qualsiasi occasione La tua parola Che io non mi volga mai indietro Perché un vero discepolo Non si volta indietro Guarda sempre avanti Avanti perché avanti C'è il Signore Avanti Dietro C'è Sodoma Dietro c'è l'Egitto Dietro c'è il vecchio uomo Che non hai ammazzato abbastanza Questa settimana Dietro ti segue Ti segue Signore aiutaci Quindi questo Altro ancora con la condizionale È uno che Deve togliere ma Ti seguirò ma Togli ma Ti seguirò E basta Signore Poi tu Signore Tu Signore Aggiungerai quello che mi manca Tu Signore Mi aiuterai Con quello di cui ho bisogno Perché non è che noi Non vogliamo salutare Quelli di casa nostra Tu mi aiuterai Ad amare tutti i miei parenti Ma io seguirò te E io ti dico Che se tu segui il Signore così Amerai veramente i tuoi parenti Ma pure quelli difficili Ma pure quelli che Eh? Che dice È una croce No Tu li amerai Perché il Signore Ti aiuterà Perché lo stai seguendo Ed allora Aiutami Signore A non girarmi indietro E finiamo Perché È bello seguire Gesù Perché è bello seguire Gesù Potremmo testimoniare Vero? Chi Come me Lo segue Il Signore Da più di 40 anni Non mi sono mai pentito un giorno Un'ora Neanche un minuto Di aver scelto di seguire Gesù Oh sì Ho dovuto rinunciare a qualcosa Sì A cosa ho rinunciato? A le cose brutte Ho rinunciato All'immondizia Diceva l'Apostolo Paolo Oh sì Qualche amico Mi ha abbandonato Quando gli ho detto Voglio seguire Gesù Ah Allora Non sono più amico tuo Va bene Sì Non me ne ha dati altri cento Che problema c'è? Quante cose In più In più Ci ha dato il Signore Quando abbiamo deciso di seguirlo Cosa ci abbiamo rimesso? A cosa abbiamo rinunciato? Al peggio Per prendere il meglio Che è quello di seguire Lui Alleluia Alleluia Gloria a Dio Vuoi ringraziare il Signore? Ma ringrazialo il Signore Ma ringrazialo Perché tu non sei Non stai in un paese Dove per sentire Dio Devi avere un sogno Tu sei in un mondo Dove Per sentire che dice Dio Basta che apri la tua Bibbia a casa E questa è una grazia È un dono Che un giorno ci sarà Ci sarà anche ridomandato Quanto abbiamo fatto stima Di questo dono Della parola del Signore Che non hanno tutti Tra le mani Quindi qualcuno Non valutava il prezzo Del discepolato Un altro Rimandava Un altro ancora Poneva delle condizioni a Dio Signore aiutaci a non essere così Amen Amen Aiutaci a non essere così A valutare il prezzo A non rimandare E a non mettere quel ma Quando il Signore ci dice Seguimi Non vogliamo Quindi Noi vogliamo quindi rispondere Semplicemente All'invito del Signore Seguimi Sì O se no anche silenziosamente Con Matteo Alzarsi e partire E seguirlo Quindi questa sera L'appello al tuo cuore Non lo faccio io Lo fa Gesù Con quella parolina Di sette lettere E tu Di questa parola Potrai decidere cosa fare Nella tua vita Seguimi Lo Spirito Santo Lo sta dicendo A tutti voi Questa sera E a me per primo Seguimi Ce lo sta dicendo Il Signore E allora Forti di quello Che abbiamo letto Possiamo rispondere Con consapevolezza Sì Signore Io ti seguirò